Qui ci troviamo nella parte più antica di Palazzo Lantieri, siamo tra il 1300 e il 1350 nella parte della Casa Bella, questo era un fortino voluto dal conte di Gorizia per poter ospitare i suoi amici di caccia, i suoi compagni di tornei e poi doveva servire anche come porta d'entrata della città, si chiamava Porta Vienna o Porta Oriente e aveva un ponte elevatoio, ci sono ancora le fessure delle catene e quindi qui eravamo proprio lungo le mura esterne della città ed era diciamo il primo punto di difesa per Gorizia e soprattutto quando poi qui le cose non erano più molto sicure c'era un sottopassaggio che ci collegava con il castello, la fortezza e il castello di Gorizia. L'entrata di questa galleria, di questo sotterraneo è purtroppo chiusa e si trova proprio all'altezza di via Lantieri. I Lantieri che avevano già molte proprietà nella valle del Vipacco, comprarono questo fortino e lo ingrandirono, tutta quest'ala venne fatta nel 1504 fino a dove poi cominciava il monastero dei Francescani voluto da Sant'Antonio di Padova. Il palazzo di Gorizia veniva usato soprattutto per ospitare amici ma anche papi, re, imperatori, uomini di cultura, uomini di scienza, moltissimi, moltissimi personaggi importanti furono ospitati in questa casa. Ogni qualvolta veniva qualcuno che la famiglia voleva onorare in modo specifico, commissionavano delle opere d'arte di cui posso farvi vedere un affresco che era stato commissionato per l'arrivo di Carlo V. Questo è il schema Lantieri dal momento in cui i Lantieri nel 1400 sono venuti a Lubiana perché i Lantieri rimasti invece in Franciacorta a Paratico avevano solo la luna e le tre stelle. Quindi si aggiunse l'Aquila in onore dell'Operatore che poi divenne incidita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.